E' stata richiesta da parte dei consiglieri di opposizione del Comune di Agropoli, Agostino Abate, Gisella Botticchio e Consolato Natalino Caccamo, la convocazione di un consiglio comunale monotematico per discutere del piano ospedaliero della Regione Campania relativamente alla destinazione dell'ospedale di Agropoli. Sono oltre sei mesi dal 20 novembre scorso, fanno sapere i consiglieri comunali di opposizione, dall'ultima discussione consigliare e nessuna altra legittima valutazione è stata effettuata dall'organo consigliare comunale, nel mentre si sono ripetuti i soliti annunci politici su di un imminente potenziamento dei servizi ospedalieri. Ad oggi nulla di fatto. Pertanto i consiglieri di opposizione chiedono un consiglio comunale monotematico in cui discutere la problematica relativa alle sorti dell'ospedale di Agropoli.